Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a giocare un altro gioco horror Quindi qua non si fermano mai i giocatori Comunque questo gioco è per android quindi Di sicuro non si buggerà Che dico, eeeh, allora Eeeh, beeello questo, si crede No, eeeh, se fosse in italiano forse era meglio Vabbè, si ha un po' di volume Eeeh, meglio andare avanti, dai Vediamo com'è l'ospedale Perché io in questo gioco non ci ho mai giocato Oh non mi so, non ci mi ricordo Boh, però non ci ho mai giocato penso Chi è quella? Forse la mia amica, la mia compagna Eeeh, è bella Ha la barba un po', vabbè Però, dai Eeeh, che facciamo? Forse, no ma io non ci ho mai giocato Io non mi ricordo che ho giocato questo gioco mai Secondo me non ci ho giocato Eeeh In questo telefono Cento, cento, cento per cento Non ci ho mai giocato Che c'è, che, perché Va così così E' bello però Sì, ma comunque non sembra un ospedale Devo dire la verità Però si chiama Hospital Chi è che parla così? E quindi devo trovare la chiave Entriamo in questa casa Forse qualcuno qua si sentirà male Che so Eeeh E andrà a chiedere aiuto Però poi non c'è nessuno Perché la porta è chiusa Sembra una chiesa No, è una chiesa Secondo me È una chiesa Per uscire a posto A posto Eeeh E allora È chiusa la porta Dico ora Oppure entriamo là Ma mai penso che è chiusa Ora la porta ancora Eh, che è? La chiave vuole Ma io la chiave Dove la prendo Mi fai chiuso la porta Qua è una porta finta Se no mi diceva pure chiuso Eh Ti giuro guarda Mi sono spaventato Perché ho detto Ma che è sta cosa nera? Perché mi fai il telefono E poi vedo quello là davanti Ma Ma come faccio io? Eh Eh Perché se c'è un'altra casa Andiamo a provare E là C'è una luce Può essere anche qualche cosa Se no mi mettevano a fare la luce lì Ancora E perché vibro il telefono Ora sono Ora mi spavento Che esce un'altra luta Ah Là c'è la porta aperta Non può dire che è chiusa Eeeh Qua c'è la luce Eh ma Un palo qua Uno qui no? Vabbè No Qua ci deve essere qualche cosa Che mi servirà Mamma mia Mamma mia Perché mi deve Vibrare il telefono Non ho capito io Oh Una chiave Finalmente E sta chiave E sta chiave Questa che cos'è? Una luce mi sembrava una pira Ma siccome siamo qua Al tempo del Del millecento No del millecento Ma perché parlo così in questi giorni? Dell'ottocento Che? Che? Aiuto? Mamma mia Aiuto 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 Perché? Perché? Che mi rappresenta Ma mi sta uccidendo In poche parole Com'è? Si mi sta uccidendo Perché? Ma che Che mi rappresenta? No mi dovete dire A me Mi rappresenta A me Lo adding Va bene Non mi ha ucciso Vabbè Mamma che paura La paura Non lo potete spiegare La paura E c'è pure il terzo Apriamo un po' Con la umicità Così vi faccio contenti Però voi Alziamo un pochino La porta Non si apre Ehi Mamma che brutti Sti quadri Che brutto Le spartellate L'hanno sparata nel cuore Quindi non vive più E' morta Si porta Eh Mamma Mamma mia Mamma che paura No Io ho un gioco Più manca il terzo gioco Io ho detto Ora mi cazzo A dos Ma Aiuto Che è Che è Perché è così Mi ha ucciso Restart Mi ha ucciso E come E perché No Io mi spavento Vedi Ci sono troppi Guardati Gli piedi Da quanto Che non ti tagli le unghie Mamma Mamma mia Mamma mia Sempre i bagni Devo entrare sempre nei bagni Chi è? Ho visto una faccia No Ma io mi sto spaventando tanto Comunque basta Perché mi fa la mano? E che vuol dire? Guarda che sto Va 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 Questo gioco E' pieno di Come si chiama Quei cosi che Comunque c'è pure il terzo Ci giocherò Se mi va Scrivete nei commenti Se volete Che ci gioco Scrivete Scrivete Non sparite Vi prego E ora Entro qua E ovviamente C'è qualche cosa Che non va Allora Ho bloccato un attimo Perché dovevo Stuppo il video Stuppo anche il gioco Perché ho dovuto Fare Mi spavento Uscito da sta stanza Io però Mi spavento Eh? Ho visto un movimento E ma qua Ora viene la Come si chiama? E ora Ecco qua E io faccio così E io faccio così Dimmi che mi uccide Perché E che mi rappresenta? Ah ma forse Devo cliccare tutti così Bah Vabbè Non fa più niente Tanto Si sa Si sa ormai Però E Qua È caduto Mille sedie Sono caduto Ecco E mi sono pure Spaventato Così Ve l'ho detto No Ora faccio sempre così Quando succede No ma comunque Ho scoperto Secondo me Che ogni stanza Ha qualche Qualche cosa Ogni stanza Ve lo dico io E questa è una cosa strana Che non ho avuto niente Che cosa è successo? Ah La porta Ok Mi ho detto che è successo Vabbè Eh What is this? Eh Eh E questo qua mi ammazza Ve lo dico io Questo qua Appare in questo gioco Te lo dico Qua Qua non può cadere niente È già tutto caduto Eh Eh Niente Con questo gioco È una potenza Ma Ma qua Dobbiamo chiamare i preti Per forza Chiave Chiave Eh La porta Questa è chiusa È che la abbiamo preso a fare Le chiave No ma Preti Quelli là Proprio potenti I più potenti Che ci sono Che gli danno anche le coppe Da quanti sono Che c'entra Mettere le porte In manco si stono Eh Bah Sta porta Non si apriva O no Mamma ti giuro Ma che paura No io Io muoio 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 Di paura proprio Non ce la faccio È troppo È troppo Troppo pauroso Questo gioco Ti dà Sensazioni Che qualcuno È dietro di te Oppure Non so Ma è pauroso 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 Non so Non so È Fa troppo paura Non so dove andare È proprio È una Un ospedale Grande Grande Sì grande Però Non ho capito Dove si va andare Ho scoperto che Anche qua si può Correre così E così Corriamo Corriamo Tanto Questo è L'ospedale Qua dentro Non ho detto niente Qua dentro Vediamo Eh Perché Ah Pensavo che era qualche Ah Forse Qua dentro Succedeva qualche cosa È vero Dico io Che succedeva qualche cosa Dietro qua dietro Mamma mi aiuto Che cos'è sta cosa Per terra Che schifo Che schifo Eh E chi mi spaventa Questi giochi Perché ora Eh Eh Te l'ho detto Che succedeva Che io lo sapevo Però Cioè mi ero spaventato Un po' Mi spavento Quando mi apparono Proprio davanti Che vengono Verso di me Se 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 Spariscono Eh Vabbè Però Qua No Ah sono uscito Ah sono uscito Che dove È qua Ora mi prendono Spavento Allora Eh Non ho capito Cosa deve fare Scendiamo le Scale Da Eh Da Che vuol dire Comunque Ah posso Eh mi ero scordato Che Ma Ma Eh qua Che cos'è Eh Questa non scompare Ah no Questa scompare E io mi spavento Mamma che brutto No No dai Che schifo Che schifo Però Dai Eh Vabbè Mangia quello che vuoi Ciao Bello Questo ospedale Comunque Se morono le persone Siete felici Così vi mangiate Il resto Di quello che rimane Ok Abbiamo liberato Il mostro Eh Qua dentro Ogni stanza Qualche cosa che non va Questa qua Non so che cosa Mi sta a fare pure il rimo Questo Questo Che cos'è E questo qua Questa stanza Che cos'è Ma Ma Stavo buttando il telefono Verso il muro Ma Pure il pallo Dobbiamo chiamare i preti Ma di una cosa Proprio brutta Quello ancora sta mangiando No Non era questa stanza Era Questa Stoccava proprio fame Di una cosa Non l'ho mai mangiato Forse Dobbiamo trovare Proprio la porta Senza chiave Eh Che so Questa stanza Troveremo qualche cosa Che non va Ora ci buttiamo Ah no 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 Che cos'è questo Sembra interessante Ma non si può prendere E Comunque quando si muovono gli oggetti Io mi spavento Questo gioco E no Non si può aprire Porta E' chiusa E Io Non so se mi devo avvicinare a quello Tanto non so se mi ammazza Vabbè Esploriamo Dai Boh Non so Vediamo un po' Che cosa c'è sotto Qua sotto Qui Non so cosa c'è Qua sotto Qua dentro No io mi nascondo Qua non esco più Guarda mi spiace Guarda perché Ah non si può uscire Da pure da qua Perché le tende sono finite ovviamente Saliamo sopra 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 Vediamo cosa c'è Sopra 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 Saliamo qua Ok Eh i preti Ci servono i preti Davvero Qua la porta Niente Non si può salire Non si può salire Come non si può salire Ma Quindi Andiamo da quello che sta mangiando la carne E gli dico se posso andare a mangiare insieme a lui Eh Ah buongiorno Ah ma non si muove Che schifo Ma come si è combinato Ah la carne Com'è Sì però la carne Finisce da un poco Non so se Mi sono buggato Devo riavviare il gioco Ok Fatto Allora Salire sopra Non si può Eh No non ci credo Sono buggato Ah ok Eh Qua Non si può fare niente Non ho capito cosa fare Cosa si può fare La luce Non funziona Sembra un Un coso Il coso del mondo Lai E non ho capito cosa di fare Qui qua C'era la cosa lì Eh E non mi va Tanto non mi prende Ecco E cosa deve fare Perché io Non ho capito Proprio niente Niente Non è che si è buggato Prima e ora mi uccide Ah no niente Proprio salgo pure sopra di lui Niente Ragazzi sono entrato qua dentro E Ho paura Perché io sono entrato qua dentro E la porta si è chiusa sola E E ho paura E E non lo so Cosa devo fare Perché C'è una mano Ah Si è aperto Si è aperto Ora mi è passata uno davanti Aiuto 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 Quindi Vediamo Ma può essere Se ho entrato in quella stanza Vi sentite di più qua O di più qua Vabbè Comunque non è che mi fa entrare Ora Mi fa andare avanti No Eh Che cos'era Che cos'era Perché si è chiusa la porta Perché si è chiusa la porta E non è che Non è che succedeva qualche cosa Io mi spavento qua E che poi Sai come Fa così perché Devo chiudere la porta Vero Ah No Ah ho preso questo E quindi Ora che succede Posso uscire Sono uscire No 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 Anzi più Eh Che Che è successo Non è che ho liberato il mare da questo posto Infatti vedi qua Infatti nel secondo gioco Nel video su play store Ho visto che non l'ho liberato del tutto il mare Il mare Il mare Ma che mare Il mare E ora me ne andrò Dalla Mamma Ciao Forse l'avevi fidanzato Ciao fidanzato Non sai quello che ho pensato Non so quello che è successo Mamma mia Vediamo la storia Vediamo Vediamo Rialzo pure il volume Un po' Dai Rialzo il volume Eh Eh Perché questo è fuori dal castello Da quel coso Quindi l'ho liberato proprio del tutto Eh Io lo so quando mi succede qualcosa Perché mi vibro il telefono Ai 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 Eh 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 No 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 Dai Non è che ho finito il gioco Oppure sto cominciando un'altra volta il gioco Però ora E quella che ci ha fermato il gioco E che cavolo Che è successo era Eh lo so amico mio Eh 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 Tu alzai da te per terra No è morta È morta Dov'è? Eh Addio Belli Eh non capito cosa vuoi Mi dispiace che ti sia fatta male Boh Oh tu Tutte case vuoi entrare tu comunque T'ho detto No perché io non posso entrare? Dai Mi spavento fuori qua Che brutto che sono io Eh Comunque Ah devo andare lì Vabbè Eh Va bene E cancellati Ecco Che cosa si fa qua? Ah È stato ucciso Ok Eh grazie Che brutto quest'altro Mi so che mi sembro Eh mi dispiace che sia morto Eh ciao Addio Eh Che vuoi Eh Muori Devi stare pure zitto Non hai capito niente Ma Pufan Eh Eh ok Eh Scusa Pensavo che era Tasparente Ok Eh Sarò immune Penso Che cos'è questa? Ah ok 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 Ora esco E che devo fare? Che devo fare? Forse devo passare in queste strisce? Eh Ah là fuori Non è perché forse È in pericolo La mia ragazza Può essere che è vero Va Salto salto Che vado più veloce così 40 39 38 37 Eh Alza Ah si stacca il ruoto Proprio Ma ma L'hanno chiuso la porta L'hanno chiuso la porta Aiuto L'hanno uccisa Ma se sei caduta per terrette No Ma la porta Ah io che sono aperti Eh Dai andiamo Andiamo Che ce l'ha montata la ruota È venuto il meccanismo Eh Dov'è? Ma Voglio stare sempre dentro le case Ok Eh Non ho capito Cosa devo fare È entrato comunque mio padre Quindi Non ho capito Che devo fare Che è? Perché c'è stata una musica diversa? Dai Non ho capito cosa devo fare Ma Ah io lo posso riprendere forse Oh Dai Ah Allora ragazzi Io ho trovato forse qualche cosa che Eh Forse ho trovato qualche cosa che sto cercando Altri Unizioni Andiamo qua Forse qua dentro C'è questo Wow Eh Bello questa casa Molto bella Molto 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 Eh Non so perché sta Che è successo? Tu sei stato E' fatto cadere la motorina Schifosa No mi dispiace Che io ti uccido Muori Stai zitto Motel Eh Gli hotel Di solito sono molto brutti Ma si apre Ma si apre? Si apre No Vabbè Vabbè Un nuovo prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi